benvenuti in alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi un podcast della psicanalista laura pigozzi www.laurapigozzi.it questo secondo episodio è dedicato al posto della matrigna cioè il posto simbolico della matrigna perché perché chiamo lo chiamo posto proprio perché io penso che l'analisi di questo tipo di famiglie non totalmente di sangue apre un nuovo campo di sfida per la psicoanalisi perché la obbliga in un certo senso a ripensare le relazioni familiari allora ci sono delle preziose bussole no nella psicanalisi per esempio l'edipo freudiano la questione del ravage di Lacan quindi l'ambivalenza tra madre e figlia sono assolutamente degli assi necessari per orientarsi nella comprensione dei posti che ciascun membro occupa nel romanzo familiare i posti sono importanti perché quando una famiglia si disassa si disassa sempre perché i posti si confondono quindi il trovare e capire il posto della famiglia è teoricamente e praticamente molto importante ci aiuta anche per esempio come terapeutico gli aiuterà gli psicologi aiuterà gli psicoanalisti a inquadrare per esempio un paziente che vive una famiglia di questo genere o come figlio o come o come genitore di sangue o non di sangue se noi abbiamo chiaro in testa in che posto sta la matrigna possiamo aiutare anche i nostri pazienti con più con più precisione allora è importante appunto saper declinare le famiglie quando ci sono dei nuovi posti quindi quando ci sono delle nuove figure che entrano in scena e che rimettono in gioco la già alta complessità di una famiglia allora che lo si voglia o meno sia le matrigne che i patrini anche se c'è una certa differenza ma lo vedremo hanno un posto strutturale nello sviluppo delle giovani generazioni è necessario chiarire subito che la matrigna non occupa simbolicamente né il posto della zia né quello della babysit né quello di una maestra né né quello di altre figure femminile della famiglia perché queste la ragione molto semplice perché le figure tradizionali che abbiamo evocato non intrattengono affatto un rapporto erotico con il padre dei figli con il padre dei bambini e questo ridisegna completamente tutto lo scenario perché i bambini che come sappiamo non sono stupidi ma sono molto prespicaci intuiscono benissimo la natura dei rapporti tra gli adulti dunque il posto della matrigna voi capite bene che è un posto inedito e questa è una delle tesi centrali che io voglio sostenere è appunto un posto inedito che ha bisogno di contorni strutturali e di uno statuto simbolico che cercheremo di definire il più rigorosamente possibile abbiamo detto appunto che per la prima volta la matrigna non è più quella che prende il posto della madre morta ma è quella a cui tocca una compresenza non sempre facile con una madre biologica dunque la figura della matrigna ancora tutta da studiare e per così dire da fondare non è affatto delineata non è garantita da alcuna legge sociale naturale naturale o tradizionale e quindi una posizione altra e non è il duplicato della madre e quindi per esempio in una situazione di separazione può accadere una cosa non del tutto secondaria cioè ad esempio può sostenere presso la figlia il valore di un'epoca il valore scusate di una figura paterna in un'epoca come la nostra in cui il padre è depotenziato sfilacciato fiaccato quindi la figura della matrigna che ama il padre è una figura che può rivalutare un padre che nel discorso di alcune madri naturalmente non di tutte occupa un posto appunto devastato in qualche modo no minoritario perché alcune madri si immaginano il reale genitore unico ma questo reale genitore unico è un posto del tutto immaginario dunque a causa della sua posizione la matrigna può essere alleata della figura paterna e può essere anche un punto di arginamento laddove dovesse presentarsi un plus materno cioè uno strapotere materno uno strapotere materno che oggi è culturalmente sdoganato proprio dall'enfasi che il nostro tempo tanto intelligente e come dire e alto pone sul valore biologico eh eh una una psicanalista francese lo ha chiamato l'impero del ventre Marcella Jacob eh l'empire du ventre eh questo libro si chiama l'empire du ventre pour une histoire de la maternité è un libro di Fayard quindi del 2004 è proprio una una lettura di della maternità come impero del ventre allora ehm naturalmente questo dato biologico perché è così amato oggi non è solo una moda culturale oggi noi abbiamo quando c'è una moda culturale noi abbiamo sempre anche dei grandi investimenti delle delle grandi ragioni economiche no? quindi questo impero del ventre è un correlato alle grandi risorse che vengono spese nel settore molto remunerativo della fecondazione eh dunque l'enfasi posta sul registro biologico esalta che cosa? la simbioticità della madre con il bambino eh offre un terreno psicologico che eh è invischiante regressivo perché sponendo tutto il valore sulla questione del sangue della fecondazione della biologia si esalta il fare corpo unico con il bambino e questo a discapito di madri magari più evolute più differenziate più in funzione di educazione di allenamento alla separazione madri che lavorano sull'autonomia del bambino sul distacco del bambino e che spesso mi scrivono molto preoccupate dicendo ma io sarò una brava madre che non sono così un po' ehm attaccaticcia come tutte le madri che vedo in giro nella scuola di mio figlio quindi si pongono delle domande eh allora è chiaro che questo libro dedicato alla matrigna è anche un'interrogazione sul materno contemporaneo e sulle sue ombre voi sapete che ho scritto molti libri su questo e ehm e questo dobbiamo occuparci non solo perché le matrigne hanno a che fare con le madri e spesso anche un funzione distensiva eh infatti voglio citare un avvocato l'avvocato Barbara Lanza che è dell'osservatorio nazionale del diritto di famiglia che dice dalla mia esperienza cito dalla mia esperienza vedo che la matrigna ha sovente la capacità di fare da detensione del conflitto piuttosto che da accensione questo è qualcosa che eh su cui mi sento di che mi sento di sottoscrivere anche nella mia esperienza così in fondo un conflitto tra i due genitori non conviene assolutamente alla matrigna che preferisce un clima disteso tra i due genitori perché perché il tema il clima del conflitto tiene impegnata la famiglia sul conflitto e quindi tiene impegnato il suo uomo sul conflitto con la madre biologica dei bambini viene impegnato le risorse psicologiche di inventiva creativa in qualche cosa che è il conflitto quindi in qualche cosa che alla fine è la negativa dell'amore ma è un conflitto che lega ancora di più che l'amore dunque la matrigna non ha alcuna ma proprio alcuna alcun vantaggio nel alimentare il conflitto tra il padre e la madre biologica e questo lo voglio dire a quelle matrigne che invece pensano di in qualche modo fare le scarpe alla madre biologica che intanto la madre biologica non gliele fare le scarpe non ci si riesce ma è terribile ed è destrutturante per la stessa nuova coppia che è fondata su un legame non di sangue ma più simbolico ora però perché bisogna interrogarsi sul materno contemporaneo parlando di matrigna per il semplice fatto che molte matrigne sono anche madri è molto semplice ora i legami femminili nelle famiglie non di sangue quindi variamente ricomposte sono particolarmente delicate per esempio è interessante capire l'implicita ma a volte anche esplicita domanda sul femminile che la figlia rivolge proprio alla matrigna accade spessissimo questo no? quindi quale parola intorno al divenire donna alla matrigna si troverà a dover proferire per aiutare per esempio una ragazza nel suo rivolgersi a un uomo che non sia il padre per esempio quindi l'analisi della funzione della matrigna che occupa il posto di terzo adulto può illuminare cosa si gioca oggi nelle relazioni tra donne e tra donne e uomini ora altra questione cruciale quanto ancora sia il desiderio del padre che orienta la femminilità di una figlia oppure quanto invece questa femminilità della figlia si gioca nella lotta e in un legame ambivalente tra donne ora capite che tutti questi dati rendono la relazione matrigna figlia particolarmente delicata può essere anche una relazione molto vivace può anche rilevare, rivelare un amore, un rispetto ma nasconde alcune insidie per esempio un'insidia questa che ho frequentemente incontrato dal momento che strutturalmente, cioè accade sempre vuol dire strutturalmente vuol dire che accade sempre nessuna figlia è del tutto contenta della propria madre e nessuna madre pienamente soddisfatta da una figlia, dalla propria figlia la bambina oppure la ragazza può rivolgersi alla matrigna ponendo questioni in ordine a quelle aree in cui la madre può essere supposta carente ad esempio ora la matrigna qui ci può cascare e spesso ingenuamente ci casca e allora comincia a fare, a riempire le falle della madre comincia ad essere troppo presente, comincia ad accudire troppo comincia a rivestire il ruolo di quella a cui si possono rivolgere domande imbarazzanti oppure quella con cui ci si può sfogare perché naturalmente c'è una maggiore comprensione e questo, come dire, non è il modo attraverso il quale la sua posizione migliora anzi può rischiare di complicarsi perché può cedere troppo alla figlia la quale poi che cosa fa? viene riempita e pervasa da un senso di colpa dell'avere tradito la madre perché si è confidata con la matrigna e quindi che cosa ha fatto? ha tradito la madre come l'ha fatto il padre quindi capite qui quale groviglio di questioni si ci sono all'interno di questa faccenda e dunque che cosa fa allora la ragazza per recuperare? può, potrebbe, diciamo, convogliare maggiori correnti d'odio verso la matrigna amplificando quella che è invece il problema principale la questione problematicissima dell'illusoria e pericolosa beatificazione della madre insomma come si capisce bene le cose sono assolutamente complesse e noi cercheremo sia nel podcast sia poi vedremo se uscirà in qualche forma di nuovo questo libro è introvabile in questi ragionamenti che stiamo portando avanti cercheremo di mettere in luce non soltanto o non tanto la fenomenologia della matrigna cioè le differenze di situazioni in cui può essere implicata quanto le linee strutturali di tale posizione c'è una sorta di psicoanalisi della matrigna e faremo ovviamente riferimento anche ad alcuni casi reali grazie avete ascoltato un episodio di alla radice delle dipendenze affettive un podcast della psicoanalista Laura Pigozzi segui il podcast e i nuovi episodi scrivi a Laura Pigozzi tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it